105 wow giovedì 14 marzo ma che bello è ancora la luce a quest'ora è bellissimo è bellissimo mi ha iniziato un po' così il discorso ma che bello giovedì 14 marzo che bello e allora salutiamo bentornata l'ordomica comello ciao amici e colleghi Dario e Micolaus ciao a te, ciao Edoardo Mecca, ciao Spani in regia ciao gli amici di Music and Cars e salutiamo anche la redazione ovviamente assolutamente sì allora come è andata ieri in mia assenza è stata scritta in un'altra pagina di storia della radio guarda allora è andata bene è andata bene direi Spani lo so anche Micolaus siete d'accordo è andata molto bene il post puntata tutta la serata di ieri è andata veramente grazie mille